Buongiorno a tutti. Allora, prima di farvi il resoconto della Star Race, lì come cavolo si chiama, la gara di 20 giri più o meno di Formula 1, per sapere la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile che si disputerà questa sera. Volevo ragguagliarvi sulla serata di BIP che ho passato. Ultimo giorno in cui l'HPBAR ha aperto, poi riaprirà il 29 di novembre, perché praticamente chiudono questo venerdì che arriva il 18 se non sbaglio, e riaprono il 28 che è un martedì, che a noi francamente non ce ne frega una beata Giovanna, perché tanto noi siamo lì al sabato. Quindi il 28-29 di dicembre, quello che è, loro riaprono e quindi noi saremo lì ai primi di dicembre, il primo sabato di dicembre. Comunque, andavamo tranquilli perché poi oggi pomeriggio era stato a bersi un caffè lì all'HPBAR il mio amico, aveva chiesto se c'era un festo che cosa, già gli avevano detto che non c'era, una beata Valeria. E quindi già lì ti deprimi perché capisci che la serata è l'offia, perché se c'è il karaoke, fino a mezzanotte e mezza, una più o meno che c'è il karaoke, pullula, perché poi magari c'è anche un compleanno, che cosa, e quindi fa libidile. Invece non c'era nulla. Comunque, il mio amico ripassa a prendervi, ero anche in ritardo perché ho fatto 14-18 interlive, l'ultima era l'intervista a Inzaghi, che ho dovuto recuperare dal video in diretta. Quindi c'era il video che ha fatto in diretta, non c'era la solita intervista con tutta la sfilza di domande, fai il copia e incolla, poi te lo trasformi, trasformi tutte le domande, quant'altro, aggiungi qualcosa di tuo, come faccio sempre, perché prendo spunto e poi aggiungo. Non faccio mai tutto uguale, identico, perché sennò sarebbe abbastanza inutile. Prendo la notizia, no, io la cerco di migliorare, tra virgolette, aggiungerci qualcosa per renderla mia. Invece qua dovevo proprio ascoltare la domanda della giornalista Inzaghi in diretta, in diretta, in differita perché c'era il video, dal video, quindi bloccare pezzo per pezzo, stare a scrivervi. Ci ho messo un'ora, ho finito dopo le sei, devo uscire alle sette e un quarto, poi quindi di corsa la barba, la doccia, questo, quello, quell'altro, scegli i vestiti. Comunque sono uscito con sette minuti di ritardo, a essere precisi, che il povero ala della Liga ad aspettarvi. Fortunatamente non c'era il Vigile a rompere i testi, erano già alle sette e ventidue, sette e ventidue, sono alla riuscita alle sette e ventidue, gli ho detto scusami. No, Gigi, figurati, non c'è nessun problema. Prendiamo, andiamo verso Domaso per andare a mangiare. Al timone, la famosa pizzeria, quella più antica di Domaso, visto che l'arcobaleno è chiuso fino a settimana prossima. Timone, chiuso, anche cosa facciamo, dove andiamo, dove non andiamo. Siamo andati a vedere, no, siamo tornati indietro subito e c'era chiusa e fa, vabbè, andiamo a Gravedona, torniamo a Gravedona, andiamo alla Garbatona, torniamo a Gravedona per andare alla Garbatona, è chiusa anche la Garbatona. Allora mi fa, andiamo alla pizzeria, quella di Dogo, quella dei parenti del nostro amico. Giro della piazza, non c'è il parcheggio, parcheggiamo lì vicino al cirighito, nel parcheggio del cirighito, di fianco al cirighito, che non è del cirighito, ma c'è il parcheggio all'interno, diciamo. Troviamo parcheggio, arriviamo, mezza vuota la sala, quindi mi ha detto un buco per due persone e lo trovano. Ci fa, avete prenotato, li facciamo, no, e allora mi dispiace, ma è tutto pieno. Va bene, riprendi la macchina, al che abbiamo deciso, chiusa una, chiusa l'altra, piadina, leppi bar, ho aggiato due piadine, leppi da una cosa triste, proprio veramente una cosa tristissima, unica cosa positiva, ma si fa per dire, perché c'era il nostro amico interista con due ragazze, abbastanza, non male, non male, era lì con, l'abbiamo invidiato un attimino, per di più con due, sapete quei bei vestitini tutti interi, un po' coi vuole vant, come degli svolazzi, no, attillato, però aveva come tante righine sopraelevate, no, come quando arricci le cose, tre, quattro, con queste godelle che quindi gli facevano, mettevano in evidenza quello che dovevano mettere in evidenza, però erano maggiorenni, sicuramente ampiamente maggiorenni, poi c'era l'altro tavolo con sei ragazze, però il mio amico fa, guarda che sono tutte minorenni, ho detto, oh madonna, siamo rovinati, perché comunque vestite a da gara, per intere, come si suol dire, no, quindi sembravano più grandi della loro età, e comunque avevano tutte le cose a posto, come direbbe il buon Christian de Sica, tiene tutte cose a posto, anzi no, il papà del napoletano, il ragazzo napoletano in Sapore di Mare 2, no, che per sbaglio la Carina affidisce a letto pensando di trovare il figlio, invece c'era il papà, signorina, non sa farla, oddio, 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 poi si nasconde sotto il letto e arriva la moglie, non so se avete visto il film Sapore di Mare 2, penso di sì, comunque arriva la moglie e fa Gesù, Gesù, siamo rovinati, è tuo figlio, pensa sempre all'inglesina, il padre gli fa, sì, però l'inglesina tiene tutte cose a posto, e la moglie gli tira lo schiaffone, porcello, qualcosa di simile, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, vabbè, siamo lì, poi è arrivato il mio amico Claudio a salutarvi, c'era l'altro Claudio che parlava di, che è milanista, non ho capito se è milanista, giuventino, eccetera, eccetera, boh, perché ha detto che andava a Torino a vedere le partite, poi mi parla del Milan del 68-69, con Rivera e Pierino Prati, quindi vabbè, non ho ben capito, mi sembrava fosse milanista, ma comunque, quello che è, qui abbiamo chiacchierato un po', ci siamo visti un po' a Bologna-Sassuolo, e tristemente, alle 11 meno 10, perché stavano, sono andati via tutti, praticamente, per farli chiudere anche loro un po' velocemente, siamo andati via anche noi, tra l'altro, c'erano più bariste, clienti, a momenti, che non le bariste, perché c'erano i due baristi, simpatici, tutto quello che volete, però io preferisco quando ci sono le quattro bariste, che magari non faranno i cocktail bene come loro, però è sempre un bel vedere. Viceversa, stasera c'era Bambolotta, eh sì, c'era la Bambolotta, e Puppa e Prua. Poi, come cliente c'era la ragazza in viola, ragazza viola, una ragazza in viola, chiamatela come volete, come preferite, quella che ti fa Fiorentina, la sua amica che conosco da una vita col marito fidanzato e la loro bimba, e c'era anche Bambolotta, che però era anche lì a lavorare, c'era Bambolotta e Puppa e Prua, più i due baristi, più la ragazza in viola, che però era lì a fare la cliente, che poi infatti è andata via, eccetera, eccetera. Quindi una depressione totale, non c'era trottolina, non c'era cuoricina. Bisogna dire che Bambolotta e anche Puppa e Prua sono sempre tanta roba, è sempre un piacere. Però capite che quando il locale è mezzo vuoto, ci fa sempre piacere vederle, però siamo sempre lì. Quindi guardate veramente, quindi alle 11 meno 10, abbiamo preso, siamo venuti via. Mio amico fa, dai fammi vedere la casa, siamo entrati, ho detto, non guardare il bordello che c'è qua dentro, perché sembra la casa di Bukowski, un incrocio tra la casa di Bukowski e quella di un universitario pazzo, ma vabbè, fa niente. Sì, poi ci sono tutti i quadri messi bene alle pareti, eccetera. Oh, che belli i quadri, non li avevo dotati nell'altra casa, qua sono distribuiti molto meglio. la casa è bella grande, eccetera, eccetera. Poi mi ha messo a posto i cosi, le pompe di calore finalmente funzionano, tutte e due, così c'ho la casa un attimino più riscaldata. Adesso quella di là l'ho spenta, ho acceso solo quella in camera, cerchiamo di risparmiare corrente che mi arrivano le mazzate. È vero che mi sono arrivate 180 euro di rimborso dalla Eder finalmente. E quindi spero di pagare solo 33 centesimi per kilowatt. col contrattino nuovo, più naturalmente tutte le excise varie, ma almeno pago 33, un 47. È già qualcosa. Comunque ragazzoli, quindi siamo stati poi lì a chiacchierare, andò a sparare quattro cagate, poi l'ho salutato, gli ho detto, ci vediamo settimana prossima. e siamo già d'accordo che settimana prossima andremo a mangiare la pizza a colico. Decideremo se questa settimana andiamo al front page e la settimana dopo all'officina meccanica o questa settimana all'officina meccanica la settimana prossima al front page. Vedremo, o se no andremo in solo dei due locali, vediamo come ci troviamo. però andremo a colico e d'altronde non c'è il campionato, è chiuso l'Happy Bar, è abbastanza inutile andare, almeno là c'è tutto perché è un locale, fanno la pizza, ci sono delle libididose patatine con Wuster e poi puoi vedere il televisore e ci sono sempre gruppi di ragazzi e di ragazze, quindi pullula e almeno non sei lì a romperti i cosiddetti. Tanto noi poi all'ora di Cenerentola ce ne andremo a casa perché non è che stiamo lì fino a chissà che ora, a meno che non botta di fortuna non arrivano due belle 35 anni che si mettono a chiacchierare con noi ma la vedo molto improbabile, salvo che non ci siano le mie follower che sono stranamente lì, la Martina in company, che magari sono lì a divertirsi o che cosa e allora è matematico che viene di Gigi, facciamo i selfie, va bene, facciamo i selfie, farei qualcos'altro, ma sei fidanzata, quindi non vi permetto, poi se anche potresti essere mia figlia, evitiamo. va bene ragazzoli, vi ho raguagliato sulla giornatina, pessimo, ma d'altronde era normale perché io venerdì che sono andato a vedere la macchina con il buon Giorgio che mi ha accompagnato, ho visto quella che non devo vedere perché bene, una sfiga che metà basta e infatti oggi, o meglio ieri, abbiamo avuto la conferma, una serata di M, in più credo che non mi abbia chiamato perché stamattina ho ricevuto una telefonata ma non ho fatto un tempo a rispondere, ho letto pronto ma ho già messo giù, però presumo che fosse una delle solite chiamate che ti fanno perdere tempo per qualche cosa, perché se fosse stato l'umino della concessionaria che mi deve dire se sta ai go, c'è o non c'è avrebbe richiamato dopo un quarto d'ora, dopo venti minuti, non è che uno fa una chiamata non fa in tempo a rispondere l'ottica anche perché comunque ha capito che ho abbastanza fretta. Comunque niente, se lunedì non mi chiama lo chiamo io ma tenendo conto della della presenza nefasta di questo personaggio che tra l'altro visto sia l'andata che il ritorno il che vuol dire che è doppia temo che lunedì mi dirà guardi signor De Stefani mi dispiace Luigi perché mi sono messo come amico Luigi amico Giorgio spiace Luigi ma la macchina devo mettertela apposta eccetera ci vuole più di una settimana anche io sclero gli dico guardi mi dia delle altre opzioni perché io un'altra settimana senza macchina non sclero veramente sclero perché devo fare delle cose tassativamente entro poco tempo perché è importante che le faccia perché se no poi diventa troppo tardi e devo aspettare poi l'anno prossimo e non c'ho voglia perché se no poi diventa troppo tardi e soprattutto devo fare una cosa che è urgente ma non vi sto a specificare perché non è non è nulla di che non è niente di eccezionale però va fatta perché è una cosa poco simpatica che va fatta altrimenti devo chiamare l'altro ragazzo e dire senti porta me l'itè perché io non riesco una cosa che devo fare urgentemente vabbè staremo a vedere cosa mi dirà lunedì lunedì o domani perché ormai siamo già domenica mi ragguaglierò anche sulla questione auto ma lei mi dispiace tanto è solo per me sono da solo tre metri e mezzo di macchina basta mi avanzano non è che ho bisogno chissà che cosa sì poi ci saranno quattro persone anziché cinque chi se ne frega tanto non devo più fare il sono anni 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 come direbbe il buon Boldi che non ha più da fare il tassista per 4 o 5 ragazze come ai tempi che avevo la panda cioè la mia mia panda ai tempi non si chiamava panda si chiamava figator perché da quella macchinina lì panda 750 color grigio oslo sono scese tante di quelle tope ma tante di quelle tope che metà bastava non solo che io facevo il tassista e le altre se le trombavano e vaffanculo e mi giravano anche i testi come sempre no ma Gigi io ti considero un amico ma vai a cagare non potevo perché era un signore non mi permettevo di dirgli ma vai a cagare però quando ti dicono quella frase lì a te cade veramente ti cade veramente l'autostima sotto zero quindi ormai mi sono rotto i testi di sentirmi dire che ti considero un amico e evito così almeno non mi deprimo va bene ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima mi sono dilungato troppo pensavo di fare un video breve breve ma sapete benissimo come io davanti uno schermo un microfono non mi fermo più sono come ma spezzali solo che lui sa cantare molto bene io no ciao Buongiorno.